C'era un lavoro importante da fare e da ognuno venne chiesto di farlo. Ognuno era sicuro che qualcuno l'avrebbe fatto, chiunque avrebbe potuto farlo, ma nessuno lo fece. Ognuno dette la colpa a qualcuno, quando nessuno fece ciò che chiunque avrebbe potuto fare. Molte volte, ognuno di noi davanti ad un compito difficile, si tira indietro, non c'è solo le proprie responsabilità. Ognuno avrebbe potuto farlo, ma nessuno lo fece. Perché l'hai fatto? Non è giusto! Hai rovinato il nostro gioco! Hai fatto un torto! Chiunque potrebbe rispettare la libertà altrui, ma qualcuno non lo fece. Cosa hai fatto? Non sono stato io! Sei stato tu! Non è vero! Che guagliate avete fatto! Qualcuno fece un'azione che non avrebbe dovuto fare, ma nessuno fece nulla per fermarla. Nessuno avrebbe dovuto superare il limite, ma chiunque lo fece. Non è solo per quello che facciamo che siamo ritenuti responsabili, ma anche per quello che non facciamo. La libertà è la capacità di scegliere con responsabilità, percorrendo la strada del progresso civile. Venite a aiutarmi, ho bisogno del vostro aiuto.